Bentornati su MyFootballGersey. Oggi vediamo la prima maglia della Serbia per i mondiali in Qatar appena disputati, nella versione FAN, la versione un po' più comoda dedicata ai tifosi. La prima maglia della Serbia per la Coppa del Mondo 2022 è rossa. Sia le parti del colletto che i polsini delle maniche della maglia da calcio Puma Serbia 2022 Home sono dorati, abbinati al colore della classico logo Puma sul petto e a destra. Il nuovo stemma della Nazionale Serba fa il suo debutto sulla maglia Home Puma Serbia 2022, che si completa con un sottile motivo a croce sul davanti e sulle maniche. Realizzata con l'innovativa tecnologia Drysel, questa maglia di Puma assicura proprio tanti sudore che ti aiutano a mantenere una sensazione di asciutto e di comfort durante la partita. A me questa maglia piace, semplice ma con questo motivo delle croci, con questa rifinitura in oro, ha quel qualcosa in più e nella mia classifica questa prende 4 stelle. Il costo lo vedete qui sopra, veramente molto basso per una maglia fatta benissimo con i numeri finalmente attaccati nel modo giusto. La spedizione è stata veloce, vi ricordo che in descrizione qua sotto trovate tutti i riferimenti per ordinare la maglia. Trovate anche un codice per ottenere uno sconto sul sito che potete utilizzare per comprare quello che volete. Ora vi lascio alla parte finale nella quale vedrete la vestibilità. Nel frattempo spero che possiate regalarci un like e iscrivervi al canale. Fatemi sapere cosa ne pensate e quale altre maglie vorrete vedere in futuro. Per oggi è tutto, ci vediamo alla prossima! Io sono alto 1,75 m e peso 70 kg circa. Quella che vedete è una taglia media della versione FAN.